a unire. Per esempio, nel linguaggio di mio figlio e degli amici, quando si telefonano, sento, ah frate, ah frate, questo fatto mi piace, frate nel senso che poi non ha parte con questo, non ha parte con l'altro, se conoscono come amici, no? Con la maiuscola. Ah frate, ah frate, allora, una cosa che in genere il fratello dà l'idea un po' di una parrocchia, del parrocchiale, più che della parrocchia, che dovende. Adesso c'è un'ode un po' particolare, sicuramente Maurizio riconoscerà dal titolo di che cosa sto parlando, di che cosa sto parlando, ode, alla pinza regolabile poligrip giratubi. Ripeto? Sicuramente, io poi ho messo comunque per non detti lavori la nota, diciamolo pure del pappagallo. Il pappagallo attanaglia col suo becco possente lo snodo sifonico per il tubo in cerca del guasto. Le idrauliche mani svitano il dado di raccordo in senso quanto rari fino a raggiungere l'umida meta.